e bella raga qua è samu smash e quest'oggi ragazzuoli sono ritornato su code black ops 3 sono anche con la facecam e che dire quest'oggi tra virgolette andiamo a festeggiare il nostro livello 200 del maestro prestigio infatti c'è guardate che figata ho anche messo l'icona del prestigio 2 di code black ops 1 bellissimo raga bellissimo adesso mi trovo su deathmatch a squadre la partita su new town sta per iniziare e guardate questo raga è mostruoso livello 1000 livello 1000 assurdo voglio controllare un attimo il ratio va bene non è cioè non è così altissimo raga alla fine può essere che si è fatto pure la dark matter quindi magari avrà perso un po con quello però raga ce la possiamo fare facciamo una bella partitozza stiamo su new town una dei mappe più belle di code black ops e che dire io di solito non metto la facecam su code perché penso che call of duty intrattenga già di suo e anche perché quando metto la facecam su code faccio certe facce raga tipo così quindi se vedete qualche stranezza non mi preoccupate ok partiamo con il nostro amatissimo vmp raga mamma mia che mitraglietta raga che mitraglietta ok dai partiamo e oh cacchia guarda quanti ce ne stanno laggiù mamma mia non demordiamo raga non demordiamo la prima morte è sempre quella che fanno e vabbè e vabbè però non stanno sempre nello spawn loro è non si muovono da lì raga forse rinuncerò al mio vmp se questi qua tendono a stare troppo nello spawn perché sennò veramente 2 mamma mia ok ottimo ottimo web e va bene lo spawn della casa blu è diventato nostro adesso ottimo così raga va bene oh ci siamo più o meno ripresi cacchierola mamma mia ho operato il culo l'alleato in una maniera impressionante dov'è quell'altro no no il vesper mamma mia raga mamma mia intanto si può dire che ci siamo ripresi alla stragrande e questa è una cosa che mi fa piacere moltissimo e intanto guardate pure che figata c'ho la mimetica sul vomp che è quella di san valentino quella limitata raga c'è stato un giorno in cui l'hanno data gratuita per tutti in chiunque accedeva quel giorno appunto c'è la mimetica gratis limitata di san valentino io per fortuna c'ho il gioco installato ho cioè sono accesso nel gioco e ho ricevuto sta mimetica che è davvero fighissima quindi ci sta tutta e me la son messa su un bel po' a darmi perché fa la sua porca figura eh via quasi eh pensavi eh pensavi ehi quanti ce ne stanno qui raga quanti allora io pusho troppo questo è vero io pusho veramente troppo eh però sapete col fatto che ci stanno i salti un bel po' di ce l'ho quindi più o meno riesco a giostrarmi la gran parte delle volte certo però questi qua veramente sono un po' bastardelli eh via 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 no no l'arma dammi l'arma ok no 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 mamma mia rega hanno tirato l'haelstorm wav che ci sta carica ottimo andiamo avanti così è che ci portiamo a casa una bella partitozza contro attacco così quindi facciamo capire più un cazzo nella minimappa va bene facciamo attenzione rega tipo guarda questa mamma mia se mi piace con la rega pian pianino mamma mia oh oddio corazza mamma mia quanto ci salva la corazzina quanto ci salva la corazzina adesso siamo noi che ce la stiamo giostrando nel nostro spawn come hanno fatto loro all'inizio e fateci caso va bene ci sta tutta ehi ehi che mira che mira al culo rega che mira al culo vabbè mamma mia devo riprendermi con la mira sento un hcxd cacchia rola meno male che non mi ha appeso a me con tutto rispetto per i compagni è però no rega no no dietro 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 cacchio rega stavo a 100 punti dal visat veramente infatti ho visto anche la medaglia che mi ha dato senza pietà stavo a 10 di fila porca vacca porca vacca mamma mia e poi ho dato pure belle smirate prima quello lì stava lontanissimo ho sprecato un caricatore nemmeno ho fatto fuori vabbè come p da lontano non è che tutta sta bomba no oh oh oddio e datemi un attimo di tregua alleato cosa fa lei in questo lancia fiamme aspetta prendo il cuda che ci sta come secondario almeno così se finisco i colpi so cosa utilizzare alleato lo ammazzi oddio aiuto no ce l'ho dietro e vabbè no rega no come facevo a seminarlo fortuna che mi sono fatto un wav che almeno così riesco più o meno a vederli però dobbiamo fare sempre attenzione e infatti questo questo krm va bene o no no dietro ehi ehi mamma mia intanto comunque stiamo procedendo molto bene però sicuro vorrei tirarmi il visat però è molto difficile rega intanto 31 10 ma bene però cerchiamo di proseguire sempre bene rega assolutamente vorrei appunto dire a later se ci riesco ma la vedo un po ardua con questi perché giocano molto bastardi guarda 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 il manuwar il manuwar rega c'ha proprio i proiettili a giro veramente se ci fate caso se ti sparano e te giri l'angolo il manuwar ti ammazza lo stesso mamma mia via di qui devo stare attenti perché se no ci chiudono nello spawn non è bello ok no qui non c'è sta più nessuno ce n'è uno dentro oddio mamma mia che abbiamo fatto a questo che cosa gli abbiamo fatto a questo alleato perché spara a caso no no beh sì vabbè quanti stavano lì in quanti no la stiamo pure perdendo no vi prego alleati fate qualcosa oddio io un'arma una cacchio di arma e vabbè e vabbè alleati vi prego vabbè 81 a 94 vorrei evitare di perdere sapete com'è però wolven che ci stava tanto stavano in tre a spararmi rega è normale che devo dirvi riguardo era persa questa partita era persa guardate gli alleati e guardate io non ce n'è uno che ha fatto 15 kill uno che ha fatto 15 kill io non ho fatte quasi 40 e loro così vabbè rega secondo me come partita c'è stata alla fine il visato non l'ho tirato però abbiamo fatto un bel po di killozze il ratio ci sta 279 l'abbiamo persa purtroppo ma non è colpa mia avete visto anche voi alleate che dire un bel pollicione in su mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto facebook ed instagram trovate tutti quanti i link nella descrizione e qui da samu smash è tutto bella raga